Siete stanchi di comprare il solito ragù in scatola? Oggi vi mostro come preparare un ottimo ragù a casa vostra. Venite con me! Partiamo dagli ingredienti. Ci servirà sedano, cipolle, in questo caso io ce l'ho di cannara, aglio, carote fresche, mazzettino aromatico, concentrato di pomodoro, come carne utilizzato del vitello, non magro ma grasso, perché ci servirà a rendere un ragù molto più saporito, molto più strutturato, della pancia di maiale con cotenna, poi vi dirò come mai, pomodori pelati, sono di casa, sale, vino rosso, porto, pepe e olio. Piccolo spoiler, vi dirò solamente alla fine qual è la pasta secondo me più consigliata per questo tipo di ragù. Seguitemi fino alla fine del video. Per prima cosa, come in tutte le cucine, andiamo a preparare il brode. Cipolla. Andiamo a pulirla. E giù. Tarota. Questa è sinonimo di freschezza. E una pasta di sedano. Ora andiamo a preparare la mirepoix per il nostro soffritto. Ci servirà, come prima, sedano, carota e cipolla. Prendiamo il nostro sedamo e tagliamolo a listarelle. Così, molto finemente. Passiamo alla carota, si fa un taglio trasversale, si ruota, in modo che la carota è molto stabile e non ci scivola dal tagliere. E noi salvaguardiamo le nostre mani. Un taglio per lunghezza. E ritagliamo molto finemente. Passiamo alla nostra cipolla. Si taglia a metà. Si fanno delle incisioni. E si taglia dall'altra parte. Guardate quanto è semplice. Prendiamo il vitello. Ora lo faremo a striscioline. Per poi andarlo a macinare. Come vedete, ho scelto una qualità di carne molto grassa. Se l'avessi presa magra, rimarrebbe un ragù molto stoppaccioso, molto secco in bocca. E a noi non va bene. Ora passiamo alla pancia del maiale. La tagliamo in quattro pezzi. E rimuoviamo la cotenna. Ce la teniamo da parte. State tranquilli, è più facile di quello che credete. Ecco qua. Facciamo i pezzi. E ci siamo. Iniziamo con il macinare il maiale. Ora maciniamo il vitello. Iniziamo. in questo caso il vitello io lo rimacino sempre due volte poiché può avere del grasso duro, dei tendini, quindi è bene passarlo due volte poi come in tutte le cose il gusto è soggettivo questo è solo il mio parere, uno dei tanti casserola sul fuoco giro d'olio leggero inseriamo la nostra bruno asso di sedano, carote e cipolla e andiamo a tostare andiamo ad aggiungere una speccia d'aglio e facciamo rosolare un po' sentite lo sfrigolio è proprio quello che stavamo cercando, le nostre verdure si stanno tostando e stanno prendendo sapore andiamo a prendere ora la nostra carne, in questo caso inseriremo prima il maiale perché è più grasso e ci servirà che tira fuori tutto il suo grasso per rosolare bene poi tutta la carne facciamo prendere il calore bene fiamma non molto alta, deve essere moderata, deve sciogliersi piano 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 ora andiamo ad inserire la seconda parte della nostra carne, il vitello ora guardiamo dentro la casseruola come è la carne se non riusciamo a rompere con il nostro mestolo di legno i nostri pezzi di carne sana c'è un semplice trucchetto si prende una frusta da pasticceria, quelle più comuni e si va ad acciaccare bene la carne fate attenzione ad usare la forza se no si può piegare, si può rompere il risultato è un'ottima carne treta dopo dieci minuti di rosolatura arriviamo alla parte che io preferisco quella di sfumarlo con il vino rosso noi abbiamo preso un rosso, un porto, molto licoroso qui siamo in Portogallo, è un vino particolare perché arricchisce tantissimo il nostro ragù con quel sento ridicoloso riesce a dare uniformità e un corpo sostanzioso al nostro ragù andiamo ad aprirlo guardate che maestria che ho sembra un bambino impacciato ci vorrebbe un sommelier dovrei chiamare Gian Paolo, che dici? soffi ok ce l'ho quasi fatta dicevano con la fortuna qua mi cade anche il tappo dentro facciamo i veri sommelier sicuramente è buono con quello che l'ho pagato povero il mio portafoglio sfumiamo non troppo che dopo lo devo bere ed andiamo a farlo evaporare bene finché non si sentirà più l'alcol già il nostro ragù sta prendendo forma così ci piace aggiungiamo ora il nostro mazzettino aromatico continuiamo a far rosolare fino a far evaporare tutto il vino non è rimasta traccia ora andiamo a separare leggermente il ragù da una parte e andremo ad inserire le nostre cotenne con il grasso rivolto verso il basso cercando di farlo sciogliere e donare più sapore al nostro ragù già qui si sente lo sfregolio fantastico lo ricopriamo e lo lasciamo andare quando il ragù si sarà attaccato sul fondo della casseruola vedete? tutto bruciato allora è il momento buono per aggiungere il nostro concentrato di pomodoro che aiuterà a donare colore al nostro ragù e più consistenza, più sapore aggiunto il concentrato di pomodoro andiamo ad inserire i nostri pomodori pelati questi non sono compri, sono di casa ognuno di voi può scegliere il pomodoro che preferisce la passata va benissimo ma in questo caso i pelati hanno quel qualcosa in più non vi preoccupate se sono interi tanto con la cottura lunga che impiegherà si sfalderanno da soli sono passati alcuni minuti sul fondo della casseruola ancora il ragù rimane attaccato quindi è il momento giusto per andare ad allungare il ragù con il brodo che abbiamo fatto prima ok? ora si abbassa la fiamma al minimo e lo lasciamo stufare per circa un'ora e mezzo, due ore in base al tempo che avete tranquilli, se lo togliete prima non succede niente è forse sempre buono io penso voi come tanti vi sarete domandati come mai non ho messo ancora il sale ed il pepe un motivo c'è solitamente io nelle preparazioni di queste tipologie di ragù il sale ed il pepe lo vado ad aggiungere solo a cottura quasi ultimata o meglio l'ultima mezz'ora proprio perché nel corso del tempo, delle ore la carne comunque si attira fuori tanto sapore e tanti succhi che possono andare a compromettere il sapore finale della ricetta quindi sì, io aspetto sempre l'ultimo momento per inserire il sale ed eventualmente il pepe ed eccoci ragazzi che siamo giunti alle conclusioni quindi secondo me la pasta migliore da abbinare ad un buon ragù sono proprio queste le fettuccine o le tagliatelle per quale motivo? perché sono rubide, è una pasta lunga assorbe molto bene il sugo quindi a conti fatti direi che è un ottimo compromesso da poter abbinare poi a voi spazio la fantasia qui è tutto vi ringrazio per avermi seguito fino all'ultimo per nuove video ricette e per consigli vi aspetto sempre nel mio canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti